Oriana Fallaci è una donna che possiamo definire l'unione degli opposti. Ha una grande intelligenza e poi in alcuni momenti fragile come una bambina. Ha molte cose in comune con l'Oriana. La cosa che mi divide molto da lei è l'idea della guerra come qualcosa di più. Non è di necessario. Questo non riesco ad accettarlo. Miss Andrzej Vaida è un grande maestro. Sul set c'è una grande atmosfera sorridente ma nello stesso tempo anche rigorosa. Oriana difficilmente era contenta. Vaida e il copione hanno rispettato l'intervista originale. È qualcosa che sicuramente le sarebbe piaciuto e anche a me piace molto. Grazie 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 Grazie